E ora ci concentriamo su Silvia Raffaele e la scelta di Uomini e Donne che sarà programmata in televisione questo venerdì, in parole povere siete ancora in tempo di non rovinarvi del tutto la sorpresa anche se insomma mi sembra quanto meno difficile in quanto è scritto veramente ovunque, anche nei siti che proprio non hanno nulla a che vedere con la trasmissione di Uomini e Donne. In ogni modo siccome siete ancora qui avete accettato di sapere e quindi sappiate che Silvia Raffaele dopo due giorni di doveroso silenzio assoluto ha deciso che anche per lei era arrivato il momento di parlare di Fabio Colloricchio e della sua scelta Nicole Mazzocato. Dalla parole della corteggiatrice calabrese si legge tutto il suo rammarico per non essere stata scelta, ma si legge anche un chiaro segno a non arrendersi, ad andare avanti, ringrazio a tutti quelli che in queste ore la stanno sostenendo, amici, genitori, fans, che sono sempre presenti. Racconta Silvia Raffaele di non rammaricarsi proprio nulla anche se è costretta a confessare che il finale è stato molto diverso da quello che immaginava, ossia è ovvio che sperasse che Fabio Colloricchio sceglie se lei è non Nicole Mazzocato. La stessa corteggiatrice chiude questo suo piccolo sfogo da grande signora chiedendo di non infangare nessuno. Insomma sicuramente avrete aperto qualche pagina social web e in ognuna di queste ci sono accuse più o meno velate a Nicole Mazzocato e Fabio Colloricchio di essersi accordati per la scelta finale di Uomini e Donne. Dice d'inque Silvia Raffaele in questo suo sfogo Instagram. È solo questione di tempo sed che il trucco è saper riconoscere ciò di cui ti importa davvero. In fondo sei solo un segno in più scrivo fine in un secondo sed che la vita è difficile solo x chi si arrende doppio punto esclamativo questo buongiorno pieno di grinta va a tutti voi famiglia, amici, fans che mi avete sostenuta sin dal primo giorno e lo continuate a fare in maniera straordinaria. Il vostro affetto mi emoziona sed che anche dietro un semplice commento siete stati in grado di arrivare dritti al cuore. Questo percorso è terminato, io non mi rimprovero nulla e purtroppo o per fortuna il finale è stato diverso da quello che io e tutti voi immaginavamo. Ma evidentemente è così che dovevano andare le cose. Non mi resta quindi che fare un in bocca al lupo a tutti e sed che no, anche a me fascina amicante NB. Chiedo calorosamente di mettere fine a supposizioni assurde e insinuazioni varie, sed che Silvia ora non pensa né altro non è ad infangare nessuno. Silvia vuole solo essere serena e godersi l'estate con la sua famiglia e le sue amiche. Grazie a tutti un bacio.